La scorsa settimana abbiamo raccolto un'importante segnalazione dai residenti del quartiere Muraglia, relativa ad un problema di viabilità ormai noto e conosciuto da tempo. Stiamo parlando dell'incrocio posto nel tratto finale di Via Fratti, all'altezza del primo semaforo dove la svolta sinistra consente l'accesso su Via Tumiati. Sono anni che i tanti residenti della strada in cui la velocità massima consentita è di 30 km orari, lamentano il passaggio di veicoli ad alta velocità non rispettosi delle indicazioni semaforiche. Attendere il verde è diventato un optional per tanti e troppi conducenti, i quali, per recarsi in direzione Loreto, decidono di bypassare l'attesa dei due semafori che consentono l'accesso su Via Flaminia. Pochi controlli da parte dei vigili per sanzionare le manovre pericolose degli automobilisti, ma anche dei ciclisti che, non curanti dei pericoli, percorrono la parallela di Via Flaminia a contromano. Nel corso del tempo si sono quindi moltiplicate le lamentele dei tanti cittadini stanchi di questa situazione. Dagli stessi residenti arriva la proposta di cambiare il senso di marcia soltanto nel primo tratto di Via Tumiati, il che obbligherebbe vetture e altri mezzi a proseguire dritti dopo il semaforo e imboccare quindi Via Flaminia. Una proposta che abbiamo sottoposto all'assessore all'operatività Enzo Belloni, il quale ha dato disponibilità ad avviare una sperimentazione che incontri il consenso dei residenti, sottoponendo però la questione all'attenzione dei rappresentanti e del presidente di quartiere. Io direi di coinvolgere il quartiere in una decisione perché quando si prendono posizioni e si fanno cambiamenti sulla viabilità, sui sensi di marcia, sui sensi unici in qualche modo si accontenta qualcuno e altri no. Ovviamente consiglio a Patrone che conosco anche bene che ha fatto l'intervista di interfacciarsi con il presidente di quartiere e poi insieme magari ci vediamo con il nostro mobility manager Thomas Flenghi e prendiamo una decisione, facciamo una valutazione. Solitamente cambiare un senso di marcia dal punto di vista tecnico non è complesso, bisogna capire, vedere se attraverso queste modifiche della viabilità si vanno a congestionare altre zone del quartiere. Oggettivamente quella è una zona 30 dove le macchine dovrebbero andare ai 30, la strada è stretta, ci sono le auto parcheggiate, quando uno deve andare al lavoro, tornare a casa o fare i propri comodi cerca sempre di scantonare, qualche furbo c'è sempre. Se dobbiamo adottare delle strategie per rendere la viabilità più sicura noi siamo a completa disposizione. Esclusa invece l'ipotesi di poter installare telecamere e sistemi di controllo per sanzionare i conducenti irrispettosi delle regole. Io penso che la cosa più importante sia educare i più giovani su questo punto di vista e poi tutti gli accorgimenti tecnici siamo disposti a prenderli, ma le telecamere dappertutto sarebbe difficile installare, difficile gestione, difficile acquistarle, insomma ci sono priorità e andiamo a risolvere i problemi dal più grande al più piccolo. Una volta contattato il Presidente del Consiglio di Quartiere che tempistiche può avere una modifica alla circolazione di questo tipo? Io direi che una volta che l'abbiamo decisa si fa la delibera, si parla con la polizia locale qualche settimana e insomma il lavoro si sistema. Poi si tratta di segnaletica verticale e segnaletica a terra, è chiaro che se piove 20 giorni non si può fare la segnaletica a terra, quindi i tempi non sono biblici. Grazie. 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 Grazie.